In così poco tempo sta imparando tante cose, per altre ha ancora bisogno di te. Puoi imparare qualcosa di nuovo anche tu. Dal 7 novembre 2019, per i bambini di età inferiore a quattro anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo antiabbandono per il seggiolino in automobile. La tua tensione diventa legge. Grazie a tutti.